Avete presente quando alla mattina vi svegliate e vi ritrovate con qualcosa di diverso? Ecco, io mi sono ritrovato con questo tatuaggio, molto swag e mascolino E quindi, niente, wow Non vuoi andare via con questo tatuaggio Vi fai paura? Sì Quindi oggi... Quindi bella tutti i ragazzi, sono Gisius Io sono Alex, io sono Pino E oggi siamo su Crysis E' sì, non volevo iniziare a fare un'altra cosa E' ero rimasti alla sala di miliardo dove avevo stato scuola No, guarda che lì c'è il nostro amico, salutalo Salutalo Guarda lì Salutalo Vai, lui l'è morto, lui l'è morto Oddio Cos'è? E' un casco Ok Qui ci sono munizioni, stai Oddio, non volevo fare così Qua ci sono chef, stai Chef, stai Che ti ammazzica di bo Quell'arma che non ha più munizioni, tipo cambiare l'arma con questa Ma mi uccidono se corri C'è alcuna canta di nevetta Corri Eeeh, hanno battuto uno Potenti allora In queste case in mezzo all'acqua Molte due Eeeh, sì Qua ti vedono, ti vedono andò per tutto In 87 Sei in... sei in... non sei... Invisibilità di... Sei vedibile Oddio, cos'è caduto? Un meteorito è gay No, ma non ci credo Cosa? Ma sono bloccato Non ti ha visto Bomba, bomba Non era lì Sì, era lì Ok, ok, c'è un posto sicuro No, no Corri Oh, cazzo, corre Cazzo No, no, no Cazzo ci stava, sì Ci stava C'è proprio Un altro Non ci prendi un caldo Dall'acqua Dagli un caldo Ecco Ecco Guarda se ne ho sdommati il 27 Perfetto E' no, bisognava dare chiesa Che caro, è quello Perché non è il 26 Avvicinati al... Vai, manca poco Oh, di mentalista, oddio, oddio, no, sparare, no, sparare, oddio, 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 che cazzo è qua il freddo, cos'è, cos'è, no, non guardare niente, non guardare, vai lì e basta, Cosa? 17 di me, cosa? Ok, devi salire, devi salire da qualche parte, ecco, vai sulla casa, metti invisibile, metti invisibile, dove sono? 8 metri, su, devi salire da qualche parte, ah, così, il suo salto super sonico, no, no, bello, ma dove sono? se lo sarebbe, ah, si se è caduto, si se è caduto, ma, va, ti deve cadere, come te la palla, è bovito, è che cosa ne ho fatto, è scadato ancora, no, ti sto bruciando, non ci sto bruciando, cos'è, ho schietato, devi andare niente, è mentalista così, è Waldo, cioè che poi, mamma mia, wow, putenti, fair power, dove si gioca, non lo so, tipo, se se su con la, con lui, no, la minaccia è zero e due sono stati bruciati un po' di persone lì minaccia è due, ancora è nata in sua visibilità si si, non c'è minaccia ci sono solo un po' di cadavere bruciati nasce, nasce fuori morti un po' di persone bruciate mi dicono quindi ok quindi mi sa che ci sarà da morire come è sexy c'è qualcuno blu palla obiettivo si cos'è il colipso? wow, come mette nel fuoco porca miseria corri, boom la terra è andata la terra è andata prendi, prendi la sovraccarica dell'energia non lo posso prendere si, tu puoi si, prova a mandargli vicino è solo vicino come cazzo vuoi? ah, magari perché c'è tipo quando posso diminuire l'energia infatti ah ok quando praticamente sei vicino non può diminuire l'energia che figata su si, si bene io direi si, che cazzo? volevo chiedere a Tok Tok io eh scusatemi scusami amico ti serve? hai mal di gola? invisibilizzati invisibilizzati in qualche modo fai qualcosa renditi allora io direi uccidi uccidi sta merda non serve uno scorcio no no non serve arco che è arco cambia arma lancia granate lancia granate che non ho che io che ho adesso suca una domanda non muore così facilmente con la merda è morto? si è morto si è morto no non è morto non è morto era solo una pinta fai scherzetti guarda quanto guarda quanto incendia guarda quanto fa continua così bene con il suo c'è va bene non può essere no comment e uscire ah! c'è fuori dai dopo te ti farò provare il bagno ok di qua devo andare che bello piante in casa proprio gente giardiniere gente ecologista oh! munizioni che io prima non avevo perchè adesso ci sono le munizioni allora qualcos'è la valigente perfetto allora io spero, sento già dei rumori guardami da qua non c'è oh cazzo si che c'è non c'è, no l'arco no aspetta no, qui si fa mi servono le frecce quelle explosive si ma non le fai fuori non lo fai fuori manco tra un milione di anni metti le lance granate no, togliti perchè ne sprechi tutte non voglio le frecce explosive vandole in corto piuttosto usa le frecce con A come cazzo? con A ah ok va bene prende le ultime le ultime a frammentazione esatto queste erano no le ultime quelle esplorgo no a frammentazione fanno tante esplosioni e devo tenerle cioè fanno per tanto dove cazzo era? uno è lì tu sai cosa fai adesso? muori non muorirà mai per l'appunto ma che coglione sei morto? sei morto? e allora questo ci sarà il necessario che brutto gioco ok direi che posso concludere ci è materializzato un po' di gente quindi salutiamo tutti e quindi ci vediamo al prossimo video vada ragazzi arrenditi non è scampo hai perso opciuca lascia andare luna non credo proprio la ragazzina viene con me no aspetta non sopporto quelli che non capiscono quando è ora di arrendersi gemini sei proprio tu? gemini? non possiamo affrontare quei due insieme ottimo tempismo gemini forza aiutami a finire il traditore ahahah si ora di farla finita mega dov'è questo gemini? non lo so ma so che siamo nella sua linea di tiro gemini presto ahahah sei impaziente eh? benissimo tuono di gemini oddio siamo morto ragazzi possa? ah gemini perchè? ah perchè l'hai eliminata? what?